La Val San Martino La Val San Martino comincia a sud con la città di Pontida e il Monte Canto e finisce a Erve col Monte Resegone. I ritrovamenti più antichi della presenza umana in questa valle risalgono all'età del bronzo e sono un piccolo insediamento a Somasca e un teschio appartenuto all'uomo sapiens ad Erve. Il nome Val San Martino gli fu dato con buone probabilità dai franchi, che quando caduto l'impero romano ne conquistarono una buona parte di quello europeo e il loro imperatore più famoso fu Carlo Magno, del quale ne vediamo più o meno l'estensione del suo regno. L'origine di questo popolo la leggenda lo fa risalire alla mitica città di Troia, dalla quale ormai in fiamme molti cercarono la loro salvezza scappando. Il più famoso dei suoi eroi fu certamente Tenea, che con la famiglia a carico viene a fondare Roma. Altri invece si rifugiarono in villaggi sparsi sulla foce del fiume Don, coltivandone le fertiterre, e man mano che aumentavano di numero andarono la conquista di nuovi territori scontrandosi con l'impero romano, del quale ne vediamo la sua massima estensione, fino a conquistarne parte di esso quando questo cadrà in rovina. Questo popolo era religioso fino al fanatismo, tanto che dove loro arrivavano, se i nuovi conquistati non si convertivano al cristianesimo velocemente, venivano ammazzati. E per ricordare la loro amata patria, oltralpe, dedicarono questo lembo di terra a un santo famosissimo in Francia, San Martino, entrato nella leggenda per il suo mantello miracolato, e degli ultimi tepori dell'estate, prima che i venti freddi del nord ci portino l'inverno. Agli interessati sono disponibili i seguenti video di approfondimento, che sono Perché scoppiò la guerra di Troia? E per il momento, dall'Iliade, in dialetto bergamasco, sono disponibili in due parti solamente l'ira di Achille. La leggenda della nascita dell'impero romano, nella quale viene raccontato il viaggio di Enea, e infine la leggenda del mantello miracolato di San Martino.